ciao sono Claudio Cerutti e in questo video voglio parlarti del prezzo dei prodotti in questo video ci chiederemo qual è il giusto prezzo dei prodotti questa è una domanda che si fanno in tanti ti sarei chiesto anche tu qual è il giusto prezzo dei prodotti nella realtà ti dico che non esiste un vero e proprio prezzo corretto un prezzo che viene fuori da un calcolo matematico e gli posso dire sì quello è il prezzo corretto il prezzo esatto da applicare i prodotti questo perché perché sicuramente non esiste un prezzo massimo il prezzo massimo lo può dare solo il mercato può dare solo il tuo marketing cioè il valore che riesce a far percepire il tuo prodotto con il tuo marketing quello è il prezzo massimo più il tuo marketing è potente più il tuo brand è sviluppato più puoi alzare i prezzi lo vedi in qualsiasi cosa tu guardi ad esempio le griff sulle borse ci sono delle borse che come materiale magari costa 100 150 euro e vengono vendute a 3.000 euro la differenza è tutta percezione da parte dell'utente da parte del mercato che valuta tanto quella borsa quello che devi portare attenzione però è che quello che devi far percepire col tuo marketing deve essere valore vero non deve essere una fregatura quindi quello che tu devi creare col tuo marketing è percezione di un valore che realmente esiste non deve essere percezione di una cosa che non esiste quindi poi il prodotto servizio deve consegnare deve essere di qualità questo ci tengo a precisarlo detto questo il prezzo massimo non esiste esiste certamente però un prezzo minimo il prezzo minimo lo possiamo calcolare a livello interno ed è pari al costo orario di struttura cioè è quel parametro che ti consente di dire che un prodotto una volta che è pari al costo della tua struttura vuol dire che ti sta ripagando tutti i costi quindi questo è il prezzo minimo al di sotto del quale non può avere un utile quindi è un prezzo che è sotto costo quello possiamo dirlo dal calcolo interno possiamo dire quando sta venendo sotto costo o a pareggio quello si può certamente calcolare invece il prezzo massimo deriva dal marketing e devi riuscire a far percepire il massimo del valore ai tuoi clienti come si calcola il prezzo minimo il prezzo minimo si calcola come il costo della tua struttura più i costi variabili il prezzo minimo da applicare è quello che ti consente di andare a pareggio se utilizzi il 100% della tua capacità produttiva cioè tu arrivi al massimo la tua capacità di assorbire clienti a quel punto arrivi a pareggio quello è il prezzo minimo un prezzo inferiore non sarebbe sostenibile perché un prezzo inferiore a quello di pareggio e al 100% di utilizzo della capacità produttiva non ti consente matematicamente di andare inutile quindi se è un prezzo che non ti consente di andare inutile matematicamente diventa un prezzo insostenibile questo a meno che tu non voglia utilizzare una tecnica tipo predatorio per conquistare quote di mercato cosa intendo per predatorio? intendo l'utilizzo di vendite molto aggressive nei confronti del mercato sotto costo di fatto che rubano quote di mercato agli attuali attori in modo tale da conquistare quote che poi ti consentono di dominare il mercato per fare questo però servono ingenti capitali ad esempio questo avviene spesso nella Silicon Valley come tipo Amazon o Uber che per conquistarsi il mercato escono sotto costo poi pian piano accrescono i propri margini e dominano il mercato questa strategia non è certamente applicabile ai piccoli imprenditori come te per cui questa strategia lasciamola alla Silicon Valley e noi preoccupiamoci di marginare in modo tale non andare mai sotto il prezzo minimo partiamo ora dal costo orario di struttura che è una componente del prezzo minimo dato che il prezzo minimo è costo orario di struttura più costi variabili partiamo da vedere come si calcola il costo orario di struttura il costo orario di struttura si calcola prendendo tutti i costi fissi annui della tua azienda dividendo per le ore disponibili se tu hai 100.000 euro di costi fissi e hai 10.000 ore di personale produttivo il tuo costo orario di struttura è 10 euro se tu ne avessi 2000 sarebbe 50 euro dipende da i tuoi costi fissi e da quante sono le ore del tuo personale produttivo facendo questa divisione otteni quanto ti costa l'ora cioè quanto costa la struttura ogni ora di personale produttivo e il costo orario di struttura è il margine minimo al cui devi vendere la tua ora se vuoi andare a pareggio utilizzando il 100% della tua capacità produttiva cioè se tu prendi clienti arrivando fino a tappo e arrivi a pareggio quello è quello che rappresenta il costo orario di struttura e al di sotto di quello matematicamente non puoi raggiungere un utile quindi è per quello che non devi mai andare sotto il costo orario di struttura come si calcola quindi il prezzo minimo da applicare ai tuoi prodotti si prende il costo orario di struttura calcolato come ti ho appena detto e si aggiungono i costi variabili facciamo un esempio se tu dovessi avere come costi fissi annui 100.000 euro e le ore del tuo personale produttivo quindi della tua capacità produttiva sono 4.000 la tua struttura costerebbe 25 euro all'ora 100.000 diviso 4.000 fa 25 quindi 25 euro all'ora costa la tua struttura ogni ora del tuo personale se per produrre un singolo pezzo, un singolo prodotto ci metti 2 ore a questo punto il costo di struttura del tuo pezzo è 50 perché faccio 25 per 2, 50 se per acquistare la merce, la materia di quel pezzo spendi 30 euro a questo punto è 50 euro ti è costato produrlo l'utilizzo dell'ora della tua struttura più 30 è la merce 50 più 30 è 80 80 è il tuo prezzo minimo dato appunto dal costo di utilizzo della struttura 50 costo orario di struttura più 30 il costo variabile della merce quindi 50 più 30 è 80 sotto 80 non puoi matematicamente guadagnare da 80 in poi se riempi la capacità produttiva allora si puoi produrre un utile detto questo, cioè calcolato qual è il prezzo minimo al di sotto del quale non bisogna mai andare vediamo quali sono i casi particolari in cui in realtà è tra virgolette consentito anche andare al di sotto del prezzo minimo se un prodotto quindi è inferiore al prezzo minimo è sempre errato come scelta strategica in realtà vanno distinti due casi cioè primo caso prezzo inferiore al minimo ma superiore ai costi variabili secondo caso prezzo inferiore al minimo ma addirittura al di sotto dei costi variabili i due scenari cambiano notevolmente vediamo perché partiamo dal caso in cui il prezzo è inferiore al minimo ma è superiore ai costi variabili in questo caso in realtà mi conviene effettuare la vendita se ho capacità produttiva disponibile ti ricordo che stiamo sempre ragionando in maniera interna non stiamo valutando l'effetto che ha d'immagine sul mercato poniamo che questo non danneggi l'immagine del mercato quindi a parità d'immagine sul mercato guardiamo se conviene o meno solo a livello interno effettuare meno la vendita se ho capacità produttiva disponibile se il prezzo anche inferiore al minimo è superiore ai costi variabili mi conviene effettuare la vendita questo perché? perché la singola vendita alza il mio utile se io effetto la vendita il mio utile si alza e quindi mi conviene effettuarla questo perché avviene? perché se io vendo qualcosa che mi costa 30 la vendo a 35 anche se è inferiore al prezzo minimo comunque io ho marginato 5 cioè margine il mio utile è l'importo del prezzo che va sopra i costi variabili quindi il mio utile comunque si alza anche se facessi tutte le vendite così a fine non sempre in perdita sulla singola vendita mi conviene effettuarla questo però è valido solo e esclusivamente nel breve termine la vendita è conveniente solo nel breve termine questo perché? perché alzo il mio utile o quantomeno abbasso la mia perdita con la singola vendita quindi la singola vendita in sé mi conviene ma se io facessi tutte le vendite così a fine anno matematicamente non potrei essere inutile sarei sicuramente in perdita questo perché? perché la singola vendita è vero che mi ripaga il costo variabile in più che ho quindi il costo in più per quella vendita mi viene ripagato ma non mi ripaga tutti i costi fissi che già sostengo quindi mi ripaga lo sforzo della singola vendita non mi ripaga tutti i miei costi aziendali per cui in realtà il prezzo inferiore al minimo superiore ai costi variabile conviene nel breve termine per la singola vendita non è strategicamente sostenibile nel medio e lungo termine facciamo un esempio numerico con i dati di prima poniamo che il nostro prezzo minimo sia 80 euro come abbiamo fatto a calcolare il prezzo minimo? abbiamo preso il costo orario di struttura quindi il costo di utilizzo della struttura 25 euro all'ora per 2 ore di utilizzo della struttura 25 per 2 50 euro quindi il costo utilizzo della struttura 50 euro aggiungiamo il costo della materia 30 euro arriviamo a 80 euro il nostro prezzo minimo se noi dovessimo applicare un prezzo di 70 euro quindi inferiore al minimo cosa verrebbe? che se noi affettuiamo la singola vendita guadagniamo dalla singola vendita 70 meno 30 costi variabili 40 euro quindi se noi effettuiamo la singola vendita guadagniamo 40 euro il problema qual è? che questa vendita ci paga solo parzialmente i costi fissi ci paga 40 euro di costi fissi e ci dovrebbe pagare 50 costi fissi che ci sarebbero comunque per quello che conviene fare la singola vendita comunque guadagniamo 40 euro non mi ripago tutti i 50 euro che avrei comunque quindi mi conviene la singola vendita effettuarla non mi conviene nel lungo termine effettuare tutte vendite di questo tipo quindi abbiamo detto nel medio e lungo termine vendere prodotti al di sotto del prezzo minimo non è sostenibile e devo avere un motivo strategico per vendere prodotti al di sotto del prezzo minimo quale potrebbero essere motivazioni strategiche primo vente di prodotti front end quindi vendo prodotti diciamo al di sotto del prezzo minimo perché in realtà me ne vendono altri ad alto margine quindi incasso questa diciamo perdita figurativa su questo prodotto per poi marginare su altri oppure per vendere prodotti complementari che aiutano a tenermi un cliente che mi compra in realtà prodotti alto margine per cui io margino con altri prodotti sul cliente e per non perdere il cliente gli do altri servizi complementari che per me sono diciamo una perdita un sottocosto ma in realtà mi aiutano a tenere un cliente che mi fa marginare su altre cose quindi in realtà in questo caso perdo sul singolo prodotto sulla singola vendita ma riesco a marginare in complesso sul cliente quindi se analizzo il cliente nel complessivo il margine c'è vediamo al secondo caso quello in cui il prezzo addirittura è al di sotto dei costi variabili in questo caso la singola vendita abbassa il mio utile questo perché? perché la singola vendita genera proprio una perdita una perdita dal fatto che stai vendendo qualcosa al di sotto dei costi variabili cioè stai vendendo qualcosa a 20 che compri a 30 quindi la singola vendita non ti ripaga nemmeno dei costi variabili quindi se effetti quella vendita il tuo utile a fine anno sarà più basso questo genere di vendite sarebbe da invitare nel modo più assoluto questo perché non portano vantaggi nemmeno nel breve termine se vai addirittura di sotto dei costi variabili generi in realtà un danno perché? perché stai vendendo sotto costo quindi nemmeno nel breve termine c'è una giustificazione per fare questo tipo di operazioni perché vendere sotto costo comporta sempre un danno riprendiamo l'esempio con i dati di prima poniamo che il nostro prezzo minimo sia 80 euro calcolato del solito modo 25 euro all'ora utilizzo della struttura utilizzo due ore per produrre e vendere il prodotto quindi 50 euro è il costo utilizzo della struttura abbiamo 30 euro costo della materia quindi totale prezzo minimo 80 euro poniamo ora che noi vendiamo questo prodotto a 25 euro quindi nemmeno ci ripaghiamo i 30 euro del costo variabile a questo punto cosa succede che noi se effettuiamo una singola vendita il nostro utile sarà più basso di 5 euro quindi avremo una perdita di 5 euro noi se effettuiamo una vendita avremo un minore utile di 5 euro una perdita di 5 euro e non ci paghiamo niente dei costi fissi i nostri costi fissi tutti i 50 euro dei costi fissi non saranno ripagati quindi come vedi a livello di numeri questa vendita fa solo danni non conviene effettuarla nella realtà anche in questo caso c'è un'eccezione come ogni buona regola abbiamo anche le sue relative eccezioni quindi ci sono dei casi in cui conviene in ogni caso sopportare una venta sotto costo e quindi vendere anche se vado al di sotto addirittura dei costi variabili quali sono questi casi? in realtà sono i casi uguali al precedente quindi in caso di front end io vado sotto costo nel front end perché poi in back end vendo dei prodotti ad alto margine che recuperano questa perdita oppure prodotti complementari che vado a vendere al mio cliente solo perché poi mi compra altri prodotti ad alto margine quindi io sopporto la perdita su un prodotto e lo recupero su un altro in questo caso dovrei analizzare non il singolo prodotto ma il set di prodotti che vendo al cliente se questo set mi dà un margine allora considero questo set di prodotti come se fosse un prodotto unitario dato che uno mi vende l'altro li considero come unitari e se questo sta sopra il prezzo minimo allora ok se analizzo il singolo prodotto può essere che vada addirittura al di sotto dei costi variabili ma se non c'è questa correlazione vendere al di sotto dei costi variabili non conviene mai 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 bene anche questo video in cui ti spiegavo come si calcola il prezzo minimo è giunto al termine ti invito ad iscriverti al nostro canale youtube cliccando sulla campanellina in modo tale da ricevere notifica quando caricheremo i futuri video ti invito inoltre ad andare in descrizione e cliccare sui link che ti permetteranno di scaricare le risorse gratuite per calcolare i numeri della tua azienda ti ringrazio ancora per la visione e ci vediamo nei prossimi video ciao